ciao questo è un programma per suonare musica su android è un bel programmino perché si può anche cambiare tipo adesso abbiamo il pianoforte ma si può anche cambiare tipo di strumento siamo ero il piano string questo qua vediamo questo non va a riuscire a tre noti altrimenti solo questo solo inizio di queste canzoni di natale andiamo di nuovo a cambiare abbiamo l'accordio abbiamo questo questa è l'arba proviamo l'arba l'organo proviamo l'organo e basta abbiamo adesso la sindrome la doppia da stile guarda che è successo qua? non è meglio con questa con quella single vediamo un attimo non volevo capire che qui possiamo cambiare gli accordi se ne mettiamo in ultimo con questa questa levetta è che mi si è reddoppiata questa? non riesco a camminare va? no stiamo cercando non riesco a camminare non riesco a camminare